Siamo nella più importante e più grande isola dell'arcipelago dei Brioni, appunto l'isola di Brioni. In questo paradiso incontaminato, in questo bellissimo giardino naturale, vi presento la prima tappa del nostro tour in quest'isola, che è questo bellissimo albero alle mie spalle che ha, pensate, ben 1700 anni. Altra tappa importante di questa bellissima isola di Brioni è questa sezione legata al mondo olivicolo. Questa era proprio un frantoio in piena regola di antichità e questa è la parte dove le olive venivano pressate, ammucchiate e venivano laurate con gli animali. Poi proseguendo, le olive venivano portate su questa sezione dove dentro dei fiscoli, dei cestelli specifici fatti in paglia e olivo, venivano ammucchiate e con una pressa venivano pressati in questa sezione qui. Quindi praticamente l'olio e l'acqua miscelati scendevano in questa vasca di decantazione dove ovviamente per affioramento veniva raccolto l'olio.